Ciao a tutti! Oggi è la festa della luna e io adesso sono qui in campagna nella casa dei genitori di lei. E in pratica adesso mi trovo nella cucina e c'è anche lei che sta facendo da mangiare per la cena di stasera. E che cosa sta facendo? Allora, qui c'è del porridge a base di miglio. Poi nel frattempo lei qua sta facendo un piatto, vedete no? Qui c'è l'intestino del maiale, con i peperoni e lì della carne. Con anche lo zenzero. Poi qua invece sta bollendo del paigù. Oh mamma mia, quanto fumo! Vedete no? Il paigù, che sarebbe carne anche con l'osso. E vabbè, per cui ci sono altre verdure. Insomma, lei sta facendo da mangiare ed è davvero brava a fare da mangiare. Nel frattempo vi faccio vedere anche qui la cucina di campagna. Vedete no? Un po' di verdure. Qua è appunto dove hanno fatto i ravioli oggi. E ne sono rimasti ancora. Anzi, adesso vado a farveli vedere perché oggi hanno fatto i ravioli. E eccoli qua. Ne avanzeranno anche per stasera. E questi ravioli sono davvero molto buoni. Ok. Oh, nel frattempo qui c'è la mamma che sta venendo. Eccola qua. Vabbè, non mi metto a filmarla. E vabbè, niente. Poi qua vi faccio vedere un po'. Vabbè, adesso sta venendo anche lì il papà. Quindi vedete, no? A me non va tanto di filmare adesso che... Aspettate, aspettate un attimo. E questo qui nel frattempo vi faccio vedere una delle stanze che ci sono anche in questa casa. Ok. Facciamo così. Aspetto che escano un attimo e poi dopo continuo il video. Se ne siano andati un attimino, quindi continuo il video. E vabbè, niente. Qui fuori potete vedere che c'è un trattore. Poi il bagno non ve lo faccio vedere. Perché, insomma. E vabbè, niente. Da questa le case di campagna è tutto. E mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Se vi interessa continuare a seguire la mia vita in Cina, mi raccomando, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo qui per un prossimo video dalla Cina. Ciao, ciao! Ciao!